RENAUTALISMAN Oltre alla berlina arriverà anche una versione Station Wagon, che vedremo in anteprima al prossimo Salone di Francoforte a settembre. Talisman punta decisamente sul design personale, su dimensioni generose, 4,85 metri di lunghezza per 1,87 di larghezza e 1,46 di altezza, abbondante spazio interno e motori parsimoniosi e rispottosi dell'ambiente. Queste caratteristiche fanno della nuova Renault Talisman un'auto particolarmente interessante per le aziende e i gestori di flotte. Al lancio di fine anno saranno due le motorizzazioni a benzina proposta Energy TCE da 150 e 200 CV e tre diesel da 110, 130 e 160 CV, con emissioni di CO2 a partire da 95 g per km. FIAT In occasione del 500 Day, svoltosi lo scorso weekend al Parco Sempione di Milano, per celebrare il lancio della nuova Fiat 500, la vettura e i suoi fan hanno stabilito un Guinness World Record nella categoria Largest Human Car Image. Nella mattinata del 4 luglio, 328 persone hanno composto l'inconfondibile sagoma della 500 attraverso un grande mosaico umano. All'interno di una sagoma lunga 15 metri, i fan di Fiat 500 hanno riprodotto la vettura in tutte le sue parti, vestiti del bianco della carrozzeria e dei colori degli altri dettagli. DS A domani per altre news. DS A domani per alla parlare l'inconfido inballo con gli altri dettagli. Ciao, un buon heroullo. Hoca 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 Tora Hoca 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 Grazie a tutti.